Sono in questa oscurità perché oggi torna una puntata speciale, o meglio, due puntate speciali. La prima è questa qua, che è Crash Test, una serie che avevo ideato nel lontano 2013, se non mi ricordo male, e dove venivano distrutte delle cose. Oggi siamo tornati qui con una nuova puntata dopo tantissimo tempo di Crash Test perché abbiamo due computer che in verità vi ho chiesto circa 3 o 4 mesi fa su che fine volevamo farli fare a questo Acer Travelmate Ultra Mega Hyper e un altro IBM classico. Oggi lo scopriremo subito dopo la sigla. Ok, siamo ufficialmente pronti. Dopo tanto tempo siamo tornati qui a fare una cosa del genere ultra mega distruttiva e oltre a questo oggi volevo provare anche in teoria la telecamera in slow motion a 240 fps circa perché è 9,60 mi sembra un po' esagerato, del mio Xiaomi Pro. Iniziamo. Porca puttana. Ho spaccato quasi il vetro. E' esploso tantissimo. Ok, riproviamoci. E' stato veramente molto liberatorio. Oddio, mi dispiace un pochettino per questo computer, però diciamo che ora è morto ufficialmente. So che è stato un episodio molto corto, anche perché pensavo che durava sinceramente molto di più ma evidentemente la scocca di questo computer era completamente cotta. Però almeno gli abbiamo fatto fare una brutta fine che è ciò che si meritava perché questo piccolino purtroppo non funzionava per nulla. Comunque, per chi si domandasse perché ho distrutto questo computer e pensa che l'ho distrutto solo perché mi è venuto un 5 minuti no, in verità questo computer era recuperabile lo sapete già fin dall'inizio, da quando ho detto che fine li facciamo fare a questo computer e sinceramente non era recuperabile schermo rotto, aveva già dei componenti essenziali che non c'erano più inoltre ci sono dei segni sulla bruciatura sulla scheda madre che mi puzzava di non funzionante e quindi ho detto facciamo rifare questa bellissima fine. E niente ragazzi, per questo episodio è tutto grazie ancora per aver visualizzato questo video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!